Grazie a tutti. E la mette dentro. Ha sfruttato alla perfezione l'ottimo pressing che ha permesso di recuperare palla. Lafferty. A metri a disposizione. Lafferty e il portiere dice di no. Hanno trovato il gol del pari, risultato che, diciamolo, è piuttosto sorprendente. Buona fin qui la... A metri per crossare. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Arbitro che qui può tirar fuori un cartellino. L'arbitro non ha avuto dubbi qui. Cerca di bucara bene il compagno. Un colpo alla biliardo, il pallone in rete. Pallonetto, vediamo se arriva una sanzione. L'arbitro non ha avuto dubbi, ha tirato fuori il cartellino giallo. Ora dovrà stare attento a non prendere anche... Vediamo cosa fa ora. A metri per andare. Dice di no. Sono di nuovo in parità, grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere. Continuano a lottare su ogni pallone. Attenzione perché è pericoloso. Kluivert! C'è l'intervento del portiere che evita il gol. Parata splendida. Palla fra i piedi di Gullet. Ottima visione di gioco qui. Come ha fatto a non... Pallone interessante. È in buona posizione. Pronti via. Ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria. Non corre rischi. Sceglie i pugni. Ha provato la girata di testa. Conclusione sul fondo. Senza problemi per il portiere. Ci ha provato. Andrà meglio la prossima volta. La mette lunga sul palo lontano. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. Occhio perché l'arbitro potrebbe anche estrarre un cartellino. L'arbitro non ha avuto dubbi. Ha tirato fuori il cartellino giallo. Ora dovrà stare attento. Per il portere. Come. Purtito. Purtito. Passare in mezzo. Posizione ideale, palla morbida a scavalcare la difesa, a metri per andare. 1-0 dunque, raccolgono i frutti del proprio dominio. Hanno sfruttato al meglio il maggior possesso palla, capitalizzando una delle tante occasioni. Arriva l'intervento dell'arbitro, arriva l'amunizione per il giocatore del Portogallo. Troppo irruento in questa circostanza, non deve perdere. Buon pallone filtrante. Ottima la verticalizzazione. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol. Arbitro che qui potrebbe tirar fuori il cartellino. L'arbitro non ha avuto dubbi, ha tirato fuori il cartellino giallo. Ora dovrà stare attento. Ruben Neves, possono passare in vantaggio. Ruben Neves, gran palla. E c'è il gol, palla in rete. Facile rete, ma pur sempre una bella rete. Grande con... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.